titoloni, la scuola non forma quello di cui il mercato del lavoro ha bisogno, è sempre così, la formazione professionale infatti grazie, è vero, la scuola non forma quello di cui il mercato del lavoro ha bisogno, ma gli enti di formazione professionale sì, il fatto che dove c'è un'esigenza formativa, dove c'è un'esigenza di personale reale e quindi un bisogno di un'impresa nel trovare personale adeguato per la propria attività, c'è sempre un imprenditore o c'è sempre una disponibilità a implicarsi per risolvere il problema, ossia dove c'è una manifestazione di un bisogno e si ferma lì, io incomincio a dubitare che sia vera, dove invece si incontra l'imprenditore e dice ho bisogno di questo e alla domanda lo facciamo insieme e risponde di sì, allora dico abbiamo colto nel segno di questi sì ne abbiamo ricevuti molti, alcuni sono qui seduti davanti a voi che lo potranno testimoniare facendo così i numeri che prima venivano segnalati dal giornalista che presenta non possono altro che aumentare e questo è l'impegno di Galdus, ma oserei dire di tutti i centri di formazione professionali della regione